Ben trovati a tutti, sono Mario della ditta Giorgetti, ci ritroviamo qui a San Colombano in Via delle Ville, dove abbiamo la nostra sede di esposizione e esposizione di caminetti. Per ricordarvi le nostre offerte, io direi di partire subito con i caminetti ricordandovi che siamo una ditta che produciamo il caminetto su misura, quindi ci portate la piantina della cassa, vi facciamo la progettazione e vi realizziamo il vostro cammino personalizzato, naturalmente moderno, classico, rustico, abbiamo caminetti bellissimi anche antichi, caminetti francesi dell'Ottocento, caminetti che aumenteranno sempre di valore nel tempo, però vi ricordo che abbiamo anche delle offerte per chi vuole spendere veramente poco, caminetti completi, parlo di interno e rivestimento a partire addirittura da 1.350 euro. Naturalmente il caminetto ha ogni tipologia di interno, quindi parlo di caminetti a produzione di aria calda, ventilata che hanno la possibilità di scaldare molti ambienti, quindi da inserimento anche in camini già esistenti, oppure anche più grandi per scaldare ambienti grandissimi. Abbiamo i caminetti a produzione di acqua calda che possiamo scaldare tutta la casa, quindi tutta una gamma completa di caminetti la trovate qui a San Colombano in Via delle Ville e qui trovate naturalmente anche una bellissima esposizione dedicata al cotto fatto a mano. Vi ricordo che abbiamo un magazzino fornitissimo di questo materiale molto pregiato che potete visionare qui a San Colombano in Via delle Ville. Vi ricordo anche che noi siamo aperti tutta la settimana, dal lunedì fino al sabato sera, quindi sempre a vostra disposizione. Mi raccomando portatemi una piantina della casa per quando riguarda il caminetto, così possiamo fare una progettazione accurata. Un saluto a tutti, ci vediamo al prossimo passaggio. Ciao!